Nico? vai sentire a questo xia? come dici siiii? siiii e senti e come si chiama il tuo cagnolino? ba ba no baubau tor tor e senti aspetta aspetta facciamomi vedere e come si chiama quello fulmino? dè 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 e come si chiama il tuo cagli e 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